Il coronavirus fa 2-9 vittime a Prato e alla Melagrana di Narnalia, il coronavirus fa 2-9 vittime a Prato e alla Melagrana di Narnalia, il coronavirus fa 2-9 vittime a Prato e alla Melagrana di Narnalia, la Melagrana di Narnalia. Sentiamo. Dopo diversi giorni in cui il covid non aveva causato vittime a Prato, nelle ultime 24 ore sono due decessi registrati nella nostra provincia. Oltre a questi si segnalano anche 41 nuovi positivi accertati. Sono invece 866 nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Toscana su 7359 tamponi effettuati. I ricoverati negli ospedali della regione sono 579, 32 in più rispetto a ieri, di cui 76 in terapia intensiva. Oggi si registrano 13 nuovi decessi con un'età media di 79,8 anni. Intanto la rete territoriale si riorganizza per far fronte all'incremento di ricovere dei pazienti covid. La struttura La Melagrana mette a disposizione 30 posti letto e diventa struttura covid. Tutti i pazienti sono stati trasferiti nella palazzina ovest del vecchio ospedale Misericordia e Dolce. Lo scorso aprile La Melagrana era già stata allestita per il ricovero di pazienti covid. La struttura è già attiva e sono già ricoverati 20 pazienti. All'interno della Melagrana sarà presto attivato anche il modulo RSA covid per 9 posti. L'ospedale Santo Stefano, infine, diventa il presidio di riferimento per l'Asla Toscana Centro per quanto riguarda la gravidanza covid-19 positiva. Le partorienti positive, quanto possibile, saranno indirizzate nel nosocomio pratese per il parto. E intanto è caos tamponi. I medici si dicono preoccupati. Il sistema è in tilt. E' una mamma denuncia. Sono stati scambiati i referti dei miei due gemelli. Adesso è impossibile prenotare un test. Sentiamo. Tamponi che non si riescono a prenotare. Risultati degli esami con nominativi scambiati. E insegnanti che non riescono ad accedere ai test rapidi. E' un sistema in tilt quello che si assiste in questi giorni nella gestione dei tamponi per prevenire il contagio da coronavirus. Dalla prenotazione fino alla comunicazione dell'esito dei referti, le proteste da parte dei cittadini e dei medici arrivano da più fronti. Il primo caso è quello raccontato da Valentina Corpora, che si è ritrovata con il risultato scambiato dei tamponi fatti dai suoi due gemelli di appena due anni. Il referto, infatti, porta in entrambi i casi lo stesso nome e cognome. E così uno dei due bambini dovrà rifare il tampone per poter tornare al nido. Peccato però che al momento sia impossibile prenotare la prestazione in qualsiasi postazione della città. Già siamo in un momento non semplice. Se poi alla già spiacevole notizia di sapere che il tuo bambino è positivo al coronavirus e alla preoccupazione per il suo stato di salute e di quello dell'intera famiglia, si aggiungono errori come lo scambio dei tamponi e l'impossibilità di prenotarne uno nuovo in tempi brevi sicuramente vuol dire che da qualche parte c'è una falla. A segnalare i disservizi sono gli stessi medici. La vicepresidente dell'Ordine, Rosanna Sciumbata, racconta le difficoltà anche nella prenotazione dei tamponi rapidi, dove anche qui sembrano finite le disponibilità. Se ci fosse stata fin dall'inizio una cabina di regia idonea con direttive precise, dice Sciumbata, probabilmente ognuno avrebbe seguito regole certe e invece ora, conclude, si lascia tutto alla libera interpretazione dei singoli medici. Poi c'è il capitolo insegnanti, come nel caso di Stefano Lenzi, delle Bartolini a Vaiano attraverso il medico di base aveva prenotato un test rapido ma alla fine si è ritrovato al Giovannini a effettuare il tampone classico. La risposta quindi non arriverà entro un paio d'ore ma serviranno almeno un paio di giorni. Con buona pace degli studenti che dovranno attendere ancora un po' per vedere il ritorno in classe del loro insegnante. E parliamo adesso del fondo del buon samaritano. Gli aiuti alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria toccano quota 93 mila euro. 75 le domande che sono state accolte e dalle acli arriva una donazione al progetto. Oltre 90 mila euro a sostegno di 75 famiglie è quanto ha distribuito da giugno ad ottobre il buon samaritano. Il fondo promosso dalla Diocesi di Prato è gestito dalla Caritas con l'obiettivo di sostenere le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria. A sostenere il fondo anche le acli di Prato. Abbiamo stabilito, come anche negli anni passati, di dare un contributo appunto a questo progetto in base alla campagna fiscale che abbiamo fatto quest'anno che è stata particolarmente delicata, importante perché con tutte le problematiche appunto del Covid abbiamo dovuto lavorare in condizioni particolari. Però alla fine il risultato è arrivato. Abbiamo fatto oltre 4.407,30 e abbiamo deciso di destinare 0,50 centesimi per appunto questo contributo alla Caritas. Noi devolviamo 2.225 euro appunto per questo progetto. Entrando nel dettaglio, il buon samaritano è partito, lo ricordiamo, lo scorso 11 giugno e ad oggi sono stati erogati fondi, come detto, per un totale di 93.214 euro a 75 famiglie. Nel corso delle 5 commissioni riunite per la valutazione in totale sono state esaminate 97 domande. Di queste, 75 hanno avuto esito positivo e le quote erogate, massimo 1.500 euro a persona, sono servite soprattutto per rispondere al pagamento dell'affitto della casa o del negozio per i titolari di partita IVA, ma anche per le spese di condominio e per pagare le utenze domestiche. Tornando alle domande pervenute, 22 sono state respinte, mentre 10 pratiche sono in sospeso per mancanza di documenti da parte dei richiedenti. Infine sono state 60 le domande per le quali sono stati fatti ascolti telefonici o incontri in presenza. Per un totale dunque di 167 richieste pervenute. Le acle ci sono sempre state molto vicine. Prima hanno contribuito con l'Emporio, poi con lo sportello. Oggi con questo nuovo progetto, un progetto che sta veramente rispondendo ai bisogni delle persone. Le richieste sono molte. Ovviamente non tutte poi possono essere sostenute dal progetto samaritano, però chi non rientra, cerchiamo sempre magari di fare un ascolto attraverso i nostri centri d'ascolto oppure orientarle laddove possono trovare altre risorse, altri aiuti. 140 mila euro da Comune Fondazione Cassa di Risparmio per progetti sociali. Il bando è riservato alle associazioni di volontariato e di solidarietà per l'aiuto alle fasce più deboli. È stato pubblicato l'avviso destinato alle associazioni di volontariato e solidarietà e che si inserisce nell'ambito del progetto Insieme, frutto di una collaborazione tra Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Associazione Spes Doce Tonlus. Sono stati stanziati complessivamente 140 mila euro, dei quali 80 mila finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e 60 mila dal Comune di Prato con risorse proprie. Le attività oggetto del bando dovranno svolgersi nel periodo compreso tra novembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Le domande dovranno pervenire entro il 3 novembre. Le associazioni che parteciperanno al bando dovranno intervenire in settori particolarmente interessanti, soprattutto per quanto riguarda il problema del pagamento delle bollette, il pagamento dell'affitto, l'acquisto di libri scolastici e il trasporto sociale per le persone anziane, interventi che in realtà già facciamo, ma che in questo modo si va un pochino più a precisare alcuni tipi di interventi che altrimenti potremmo fare con maggiore difficoltà. Quindi è un intervento, ritengo anche importante, in un momento difficile come questo. E passiamo adesso alla cronaca. Sono state scoperte a Prato e Carmignano due centrali del falso. Una produceva mascherine, capi di abbigliamento con marchi contraffatti, l'altra invece vendeva in tutta Italia maglie taroccate col marchio TikTok. La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 21.000 mascherine e 5.000 capi di abbigliamento pronti per essere messi in commercio, oltre a 115.000 loghi già stampati utili per la produzione di altrettante mascherine, sequestrate anche 19 km di carta transfer con impressi marchi da applicare su circa 30.000 maglie, tutto contraffatto. Le indagini sono partite dai numerosi sequestri di articoli contraffatti effettuati nei giorni scorsi che lasciavano ipotizzare l'esistenza nella nostra provincia di un vero e proprio centro di produzione del falso. I finanziari hanno così individuato un'impresa sospetta nella zona industriale di Carmignano gestita da un cittadino di origine cinese. La successiva perquisizione ha confermato che l'unica esclusiva attività svolta dall'impresa consisteva nel trasformare la materia prima, anonimi rotoli di stoffa, in prodotti finiti per lo più mascherine con i loghi di noti marchi ovviamente contraffatti. Il profitto ipotizzabile dalla messa in vendita dei prodotti contraffatti è di un milione di euro circa. Il titolare della ditta è stato denunciato. Sempre a Prato era un'altra fabbrica del falso che riforniva di capi di abbigliamento contraffatti con il marchio del noto social network TikTok numerosi negozi di tutta Italia oltre a gestire le vendite online. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza della Spezia che ha sequestrato 150.000 tra felpe, t-shirt, pantaloni, maglioni, mascherine ed etichette. Oltre alla merce sono stati sequestrati anche 15.000 euro in contanti. Denunciati 4 cittadini cinesi e 10 italiani per contraffazione e ricettazione. Ennesima truffa ai danni di anziani l'ultimo episodio si è verificato ieri mattina vicino Piazza San Marco a casa di una 85enne che ha ricevuto la visita di un falso tecnico della caldaia. L'uomo, un giovane italiano è riuscito a farsi aprire convincendo la donna della necessità di fare una verifica all'impianto di riscaldamento. Una volta entrato all'interno dell'abitazione il truffatore si è fatto mostrare dove l'anziana custodiva alcuni gioielli e denaro contante. Con una scusa poi ha condotto la donna in un'altra stanza per poi rubare i gioielli e un migliaio di euro prima di uscire dall'abitazione. Rimasta da sola la vittima della truffa ha chiamato la polizia che ha fatto un sopralluogo sul posto per acquisire una descrizione del malvivente che però ha fatto perdere le proprie tracce. La questura invita nuovamente la popolazione anziana a contattare tempestivamente il 112 e il 113 in casi sospetti. E torniamo adesso ad occuparci della gara del trasporto pubblico locale slitta almeno fino a marzo 2021 la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto una super perizia sulle due offerte Mobit accoglie con favore l'ordinanza. Si allungano i tempi per il verdetto definitivo della giustizia amministrativa sulla gara regionale del trasporto pubblico locale che da anni vede contrapposte autolinee toscane a cui la regione ha affidato per due volte la concessione e gli attuali gestori di Mobit fra cui Cap che hanno impugnato le aggiudicazioni. Ieri il Consiglio di Stato chiamato a mettere la parola fine alla vicenda ha emesso un'ordinanza per dare mandato a tre docenti universitari affinché compiano una verificazione tecnica in una relazione da depositare entro 90 giorni i tre professori di economia e finanza all'Università Cattolica di Milano all'Ateneo di Perugia e all'Università di Modena in Reggio Emilia dovranno pronunciarsi sui nodi che potrebbero inficiare sia il piano economico finanziario di Autolinea e Toscane sia quello presentato da Mobit. All'indomani dell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato Mobit fa sapere di aver accolto con favore il provvedimento dimostra che non abbiamo compiuto nessun ostruzionismo ma soltanto rivendicato i nostri diritti afferma il presidente di Mobit Giuseppe Gori che rivolge un appello al nuovo presidente della regione toscana Eugenio Giani Oggi noi stiamo a chiedere questo un atto d'obbligo che ci porti alla conclusione di giugno quando ci sarà la chiusura delle scuole questo ci potrà consentire di organizzare e gestire ancora meglio il servizio degli scuola bus che a Prato stanno funzionando che in Toscana stanno funzionando siamo anche convinti che se noi abbiamo 6-7 mesi di tempo potremo anche ricominciare a elaborare qualche progetto per il miglioramento del servizio siamo convinti che potremmo anche ricominciare a parlare di investimenti Nell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha fissato una nuova udienza l'11 marzo 2021 viene citata senza che su questo vi sia alcuna presa di posizione anche la memoria con cui Mobit espone alcuni passaggi dell'inchiesta della Procura di Firenze che ipotizza la turbativa d'asta e vede indagati oltre all'ex presidente della regione Enrico Rossi anche alcuni dirigenti regionali e membri della commissione di gara Mobit parte offesa nel procedimento penale che ha le indagini preliminari contesta la violazione del principio di segretezza delle offerte e di regolarità delle operazioni di gara e sull'ordinanza del Consiglio di Stato interviene anche Autolinee Toscane secondo la quale Mobit presenta una lettura distorta e di parte del provvedimento che non costituisce affatto una sconfessione di quanto stabilito dalla sentenza del Tar sentenza dice Bruno Lombardi presidente di Autolinee Toscane che resta efficace ed esecutiva secondo il gruppo facente capo ai francesi di Ratepe quindi la giudicazione a proprio favore resta in vigore e la verifica sui PEF non mette in discussione l'obbligo di proseguire l'attività prevista dal contratto di concessione Giardini pubblici al buio e degradati sopra il luogo degli assessori comunali Sanzo e Vannucci a Sant'Ippolito accompagnati dai consiglieri Biagioni e Rosati e dai cittadini che hanno illustrato le loro proposte per la frazione guardate Si tratta dei giardini pubblici della frazione ma mancano completamente di illuminazione pubblica e panchine l'erba arriva quasi ai ginocchi e sono luogo di scarico illecito di rifiuti un gruppo di cittadini di Sant'Ippolito si è rivolto all'amministrazione comunale chiedendo una riqualificazione della zona E questo sarebbe bello sarebbe bello però andrebbe tenuto rimodificato così com'è no perché vedi di che c'è non c'è niente La strada che conduce al parco pubblico è oltretutto piena di avvallamenti e di buche uno sterrato che certo non incoraggia le passeggiate quest'area preciso soffre di abbandono specialmente notturno di scarti tessili e di altro tipo di rifiuti è una zona chiaramente senza illuminazione è una zona chiaramente con un accesso come abbiamo visto degradato senza asfaltature e con dei problemi quindi di vivibilità questo ci consegna anche dei rischi di certo di criminalità o di abbandono l'assessore alla città curata Cristina Sanzò e l'assessore allo sport Luca Vannucci hanno fatto un sopralluogo a Sant'Ippolito invitati dai consiglieri del PD Marco Biagioni e Matilde Rosati con loro un gruppo di cittadini che progetto alla mano promosso dalla locale sezione PD ha illustrato le proposte della comunità per un luogo al momento abbandonato a se stesso l'illuminazione pubblica credo che sia un qualcosa su cui siamo tutti d'accordo però cercare di capire anche l'indirizzo che vogliamo dare a quest'area e come la vogliamo appunto sfruttare e quali sono le reali necessità della zona quindi per quanto mi riguarda da parte dell'amministrazione massimo impegno oggi siamo venuti insieme all'assessore Vannucci intanto faremo un passaggio al nostro interno per capire perché qui l'area è importante quindi anche le risorse saranno necessarie delle risorse importanti davanti ai giardini un campo da calcio con tanto di spogliatoi funzionanti ma chiuso e inutilizzato da anni le scuole di calcio può essere utilizzato può essere anche potenziato l'impiantistica sportiva con tutto il verde che c'è qui a disposizione secondo me si può pensare anche a qualcosa di a un potenziamento a un sussidiare a un secondo campo di appoggio a questo qui e diventerebbe sicuramente ancora più appetibile proprio per le scuole calcio il campo è qui fa parte dell'area sicuramente è un'area da rilanciare nella sua interezza la parrocchia di San Leonardo in Gamberame ha chiuso la piccola chiesa della Cartaia nel comune di Vaiano la decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato da alcuni tecnici che hanno ravvisato l'inagibilità dell'edificio le scosse di terremoto del dicembre 2019 che hanno avuto come epicentro il Mugello si sono fatte sentire anche in Val di Bisenzio e la chiesetta della Cartaia ha riportato alcune lesioni questi danni sommati alle infiltrazioni d'acqua e al bisogno di rinnovamento dell'impianto elettrico e di quello idrico sono la base della decisione presa dal parroco Don Giuseppe Loporto di chiudere la chiesa al pubblico la consueta messa prefestiva si sposta dunque nella chiesa di Gamberame questo sabato alle 16 e poi da quello successivo alle 17 grazie al Ministero della Difesa sono arrivati in Toscana dalla Germania resti dell'artigliere Bruno Corsi una battaglia quella per garantire la sepoltura in Italia durata 25 anni oggi pomeriggio si è tenuto il rito funebre a Carmignano vediamo sono rientrate a Carmignano dopo 76 anni le spoglie dell'artigliere Bruno Corsi il militare italiano originario di Campi Visenzio che dopo l'8 settembre 1943 decise di dire no al nazifascismo una scelta che gli costò la libertà come altri soldati italiani Corsi fu deportato in un campo di lavoro in Germania e morì il 17 settembre 1944 a causa di un attacco aereo per tutti questi anni i suoi resti hanno riposato lontano dalla patria nel cimitero militare italiano d'onore di Hamburgo è stata la pronipote la giornalista della Nazione Maria Serena Quercioli a dare una svolta alle ricerche iniziate 25 anni fa io è 20 anni fa che ho iniziato le ricerche per trovare la tomba di Bruno in quanto i documenti erano andati perduti solo che senza il sopporto di internet e poi magari anche di ricercatori come è stato Roberto Zamboni che cura il sito Dimenticati di Stato e loro hanno catalogato tutti i militari sepolti nei cimiteri stranieri grazie a lui ho ritrovato la posizione esatta della tomba e ho avviato le pratiche con il Ministero della Difesa per il rientro la cerimonia funebre alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche d'arma si è svolta nella chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano l'artigliere è stato poi sepolto nel cimitero di Seano accanto ad un altro soldato di Bruno Corsi resta soltanto un oggetto particolarmente significativo un mandolino in legno costruito da lui e che amava a suonare era un musicista abitava a Firenze probabilmente anche che è un ragazzo molto sognatore molto creativo e quindi è stato quell'oggetto che mi ha sempre anche incuriosito e spinto a cercarlo in tutta Europa diciamo siamo felici di averlo ospitato qui a Carmignano e speriamo di poterne ancora ospitare altri insomma di soldati che sono morti all'estero dopo aver compiuto il loro dovere confartigianato Prato valuta positivamente l'ultimo DPCM per il presidente Luca Giusti il coinvolgimento nelle scelte degli amministratori locali permetterà di prendere provvedimenti specifici l'associazione ribadisce poi di limitare il più possibile le chiusure delle attività confartigianato Prato valuta positivamente l'ultimo DPCM i provvedimenti decisi per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus in particolare secondo il presidente Luca Giusti il coinvolgimento dei sindaci che potranno chiudere l'accesso a vie o piazze a rischio assembramento dalle 21 permetterà di assumere provvedimenti mirati da chi ha la percezione precisa del territorio senza il bisogno di dover ricorrere a serrate diffuse diciamo che rispetto a tutte quelle norme che erano state emanate nelle situazioni precedenti finalmente abbiamo cambiato passo abbiamo soprattutto cambiato modalità e mentalità su quelle che dovrebbero essere le prescrizioni da adottare per cui soddisfazione soddisfazione perché perché finalmente al governo hanno capito che non si può fare un provvedimento unico che possa riguardare e interessare tutto il territorio nazionale è opportuno che sui vari territori siano essi comuni province regioni siano gli enti locali a stabilire quale siano le condizioni migliori per garantire la sicurezza e il non proliferare del contagio per confartigianato la priorità resta la salvaguardia del tessuto produttivo limitando al minimo le chiusure seppur parziali noi pensiamo che debba essere salvaguardato in particolar modo dopo il precedente lockdown quello che è tutto il tessuto economico limitando veramente fino all'impossibile la chiusura di qualsiasi tipo di attività questo non vuol dire permettere comunque tutto a tutti i costi vuol dire mirare operare chirurgicamente andando a definire a delimitare quelle che possano essere le varie possibilità di contagio nelle varie situazioni ma lasciando sempre ben presente che l'attività produttiva ed economica deve andare avanti se dobbiamo rinunciare a qualche ora di svago se dobbiamo rinunciare a qualche momento ludico io credo che questo si possa fare se va a vantaggio del mantenimento di un tessuto economico l'ex palazzo del commercio alpino già sede della banca popolare di vicenza apre la nuova birreria fabbrica in pedavena 15 assunzioni ed un investimento da parte degli attuali gestori del posto caffè che non si è fermato neanche con l'arrivo del coronavirus vediamo aprirà domani alle 18 e 30 nei locali di via galcianese alpino nei quali hanno avuto sede in passato banca popolare di vicenza e confcommercio la nuova birreria fabbrica in pedavena marchio già presente in diverse città italiane tra cui Verona e Firenze ieri l'anteprima ad inviti con la presenza del sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Benedetta Squittieri il nuovo locale apre grazie a tre imprenditori fiorentini che a Prato gestiscono già da un paio di anni il posto caffè ex corner Aldo Settembrini Antonio Laganà e Marcello Moretti già titolari a Firenze del rifrullo e organizzatori del locale estivo Villa Vittoria con loro Simone Tesoro che sarà il direttore di fabbrica in pedavena Prato fabbrica in pedavena non è la classica birreria è all'italiana ma è un nuovo modo di vivere il locale potremmo far mangiare le persone dalla mattina fino alla sera mezzanotte per ora fino a mezzanotte poi cercheremo di creare un pochino più di ambiente fino anche l'una le due facendo musica vivo facendo anche un po' di feste private quindi diciamo che fabbrica in pedavena va un po' fuori gli schemi la cucina sarà molto attenta alla materia prima quindi abbiamo prodotti a chilometro zero forniture prettamente toscane quindi ci appoggiamo a strutture di qui di zona quindi è tutto da scoprire è una cosa nuova attualmente nel rispetto dell'ultimo dpcm i tavoli sono al massimo da sei coperti e la capienza del locale molto spazioso e provvisto di decor è di 140 posti proprio l'arrivo del coronavirus lo scorso inverno ha portato ad uno slittamento dei lavori ma gli imprenditori hanno deciso di portare a termine l'investimento nonostante le difficoltà con cui deve fare i conti il settore ringraziamo Prato per l'ospedialità che ci ha dato a accoglierci in questa città e crediamo che dare un forte segnale in questo momento così delicato possa essere davvero qualcosa di importante e quindi abbiamo trovato il coraggio di voler andare avanti e di iniziare questa avventura così in tanta attesa e la parola passa adesso a Lucrezia Sandri per scoprire argomenti ospiti di questa sera di intorno alle 9 in onda al termine del nostro telegiornale grazie della linea ottobre mese della prevenzione del tumore al seno ottobre rosa e noi parliamo delle iniziative in programma per questo sabato quelle che si svolgeranno nei limiti previsti dalla legge e ovviamente parleremo di prevenzione lo facciamo in compagnia di Giovannella Pitigliani presidente della fondazione Pitigliani buonasera buonasera e anche della dottoressa Laura Biganzoli coordinatrice del centro di senologia del nuovo ospedale Santo Stefano collegata con noi via Skype buonasera buonasera a tutti e allora appuntamento subito dopo il Tg restituisco la linea allo studio grazie Lucrezia dal momento dell'agenda scopriamo insieme gli appuntamenti in programma da domani a domenica al Teatro Magnolfi tutta la vita spettacolo in prima assoluta cura della compagnia Amor Vacui domani alle 15 alla biblioteca Lazzerini Gianni Rodari e Leaporie della letteratura italiana incontra cura di Daniela Marcheschi docente di letteratura e multiculturalismo all'Università di Lisbona infine alle 21.15 al centro Peci proiezione della versione restaurata del film Caro Diario di Econ Nanni Moretti passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma saluto una buona serata ancora un campo di alta pressione a protezione del Mediterraneo centro orientale le perturbazioni atlantiche per il momento interessano l'Europa occidentale nord-occidentale la previsione per domani ancora fitti banchi di nebbia tra le province di Firenze Siena e Arezzo in mattinata qualche nuvola su settori occidentali e soprattutto nord-occidentali della regione dove ci potrà essere spazio anche per qualche isolata piovigine venti deboli di scirocco sulle zone interne fino a moderati sulla costa sull'arcipelago e sui rilievi per quanto riguarda il pomeriggio ancora cielo parzialmente nuvoloso qualche nuvola in più addensamenti più consistenti ancora sui settori più settentrionali della regione lo sguardo alla giornata di venerdì arriva qualche debole pioggia in mattinata sul nord-ovest in un contesto di cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso nel pomeriggio piogge che si estenderanno a restanti settori centro-settentronali interessando un po' tutto il centro-nord della regione soprattutto in serata i venti saranno ancora di scirocco moderati sulla costa l'arcipelago e sui rilievi ancora di debole intensità sulle zone interne bene è tutto vi ringrazio l'attenzione una buona serata e con il Meta è tutto il telegiornale termina qui l'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il Tg del giorno grazie per averci seguito arrivederci a presto